Oh oh oh! Benvenuti nella casa di Babbo Natale! Guardate quante letterine che devo ancora leggere! Per fortuna mi aiutano in tanti a confezionare i regali, ma solo per i bimbi buoni! E come ogni anno è giunto il momento di salutare tutti quelli che hanno reso questa città più bella e felice. Mi riferisco a tutti gli artisti palermitani che portano pace e allegria e soprattutto alla fantastica, eccelsa, meravigliosa Scuola Cinema Sud che ci rende tutti più preparati ad affrontare... Giuseppe ma che cazzo mi fate dire? È uno spot sulla scuola! Cioè mi hai chiamato per il Natale, gratis! Ti faccio un favore, ma è uno spot... Ferdinando, vabbè, sti cazzi, ma perché devi dire sta cosa gratis davanti a tutti? E poi vabbè, è gratis come ho fatto fare gratis il corso a tuo figlio, va bene? E poi dai, ma non leggi sto cazzo di messaggio natalizio, per favore, che abbiamo tutti fretta, grazie! Azione! Ho ho ho! Benvenuti nella casa di Babbo Natale! Guardate quante letterine che devo ancora leggere! Per fortuna mi aiutano in tanti a confezionare i regali, ma solo per i bimbi buoni! E come ogni anno è giunto il momento di salutare tutti quelli che hanno reso questa città più bella e felice. Mi riferisco a tutti gli artisti palermitani che portano pace e allegria e soprattutto alla fantastica, eccelsa, meravigliosa Scuola Cinema Sud che ci rende tutti più preparati ad affrontare la vita e ci aiuta a rendere possibili i nostri sogni. Chi fa l'attore, chi fa il regista... Vabbè ma fa schifo sta cosa Giuseppe, è già troppo! Chi fa l'attore, chi fa il regista, è una cagata, non si può leggere! Allora, Renato, qual è il problema? Allora, ci sono i corsi di recitazione? Sì! Ci sono i corsi di regia? Sì, quindi non stai dicendo cose false! E poi, scusa, anche quando? Tu sei un attore? Quindi recita, io non capisco, quando fai le cagate con gli altri pseudoregisti non protesti! Adesso ti sei messo a fare anche il critico cinematografico! Sì, ma avevi detto che era uno spot sul Natale e anche caduto il sacchetto di merda, io lo lascio qua, vabbè! Allora, sei vestito da Babbo Natale, che minchia voi se fossi vestito da Vodipasco protestavi! Ma quindi ora riallacci dal punto in cui dici che a Natale siamo tutti più buoni, dai! Vabbè, ok, con queste luci di merda un po' di trucco si può avere, per favore! Mi metti anche il... il sacchetto, per favore, Diana! Cazzo! E ora, fai tutto il problema, ora! Ma vengi sta cazzo di qua, dai! Vai, vai! Ho, ho, ho! Benvenuti nella casa di Babbo Natale! Guardate quante letterine che devo ancora leggere! Per fortuna mi aiutano in tanti a confezionare i regali, ma solo per i bimbi buoni! E come ogni anno è giunto il momento di salutare tutti quelli che hanno reso questa città più bella e felice! Mi riferisco a tutti gli artisti palermitani che portano pace e allegria! Senti, Giuseppe, vieni un momento qua! Ma di anno mi stai rompendo i coglioni! Gira te lo tu, lo svolto di merda! Aia, aia, va bene, va bene, va bene! Vabbè, va bene! Mettita il conto! Mettita il battaglio tu, lo svolto di merda! Hai il cappello, Ferdinando? Tieni, tieni il cappellino! Azione! E buon Natale dalla Scuola Cinema Sud! Stop! Aia, 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 aia!